Ieri c'è stato un episodio di tensione, provocazioni reciproche e questa città non è nuova purtroppo, manifestazioni di questo tipo. Da parte nostra veramente il richiamo al rispetto di tutti, alle idee di tutti, quindi no a qualsiasi forma di violenza e no anche a qualsiasi forma di provocazione. I valori su cui è costruita la nostra Repubblica, la nostra società sono dei valori fermi, chiunque li metta in discussione deve essere isolato e lasciato da parte. Mi auguro che non si ripetano questi episodi in cui debba intervenire le forze dell'ordine e mi auguro che ci sia anche in questo momento di campagna elettorale sempre un dialogo aperto sui contenuti, con dei modi civili e con il rispetto di tutti. Lei ha fatto accenno ai valori fondanti della nostra Repubblica e quindi anche ai contenuti, tra questi valori c'è da sempre la condanna del fascismo. Assolutamente sì, ogni forma di discriminazione, il fascismo è una forma di discriminazione fortissima, è fuori da qualsiasi regola democratica.